Musica Cosa devo fare nello special dei miei iscritti? Salve amici di un video, il nostro tag full19 e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video dello speciale dei 1000 iscritti che ormai abbiamo raggiunto e abbiamo anche superato E ragazzi come vi avete chiesto in tantissimi, oggi farò quello che vi avete chiesto in di più Ovvero, ragazzi ora ve lo faccio vedere sullo schermo che è un peccato da leggere Oddio, che sto volando Guardate Guardate Ragazzi mi dispiace ma oggi chiudere il canale è un dispiacere per me ragazzi Dopo 1000 iscritti, dopo tanto tempo passato qui a registrare i video proprio è un peccato Lo metto davanti alla telecamera, facciamo il vlog Proprio mi dispiace ragazzi Guardate che occhi, guardate quanto sono triste Ma stai scherzando? Oh ma io che ci sono venuto a fare qua se no eh Che noia che ci fai nel mio video? Te non ci sei? Che stai facendo qui? Sono venuta qui per lo speciale dei 1000 iscritti, idiota tu non puoi chiudere il canale Ah no No perché sono volato via Che noia ha superato, mi ha preso il canale ragazzi Che noia mi ha rubato, mi ha scippato il canale Che noia mi ha saltato il canale Vabbè ragazzi bando le ciance Oggi siamo qui in questo speciale di 1000 iscritti Non affatto non sto chiudendo il canale Alla faccia di quello che mi ha scritto chiudi il canale Che io sono morto dall'arrisata appena me l'ha scritto Perché non chiudo il canale? Allora dove è la casa? Ah eccola Andiamo alla casa ragazzi Questa è una casetta che ho trovato tra le duplicazioni di Garry's Mod Ho convinto che noia giocare su Garry's Mod Sto parlando al raffico, era notare Perché non riesco a sparare? Ah ok Perché non riesci a sparare? Stato un po' Non riuscivi Ragazzi ora siamo su un gioco che noia Oddio ti ho parato il serere Allora Ah stai porta Aia mi sono fatto male Dove sei che noia? Oddio Lei mi vuole ammazzare Guardate la quante fede Scontro Lei nel frattempo era notare che sta volando Oddio Scontro Fra titani Che noia versus tag fullice al 9 E vince i tag Prova 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 Oddio Eccoti Oh mio dio Sei tu? Sì Salve amici Di uno al vostro tag fullice al 9 E' bevuti questo nuovo video Perché sto rifacendo la intro Se questa solamente è una continuazione di tante scene Che non hanno minimo senso su San Andreas Non lo so Sono uscita deficiente Che non sono Hai premuto esc Sì per sbaglio Ragazzi in questo video Che abbiamo deciso E che ne ho speciali mila iscritti Faremo Tanti gameplay Oddio guardate che sta facendo Che sta Che sta facendo Cioè Sta cercando di prendere oggetti Non si alzano sti cosi Oddio Che diavolo succede? Perché io non riesco ad alzarli? Oddio stanno incastrando Oddio 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 Guardali qua Guarda Guarda Oh mio dio Una rissa Una rissa Tra oggetti Oh Aia 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 Oh mio dio il volo Perché ci sono sedie Che sono volate via Ciao No No basta Adesso No prima c'era Ecco mi ha ammazzato Annaggia Mi hanno detto alcuni amici Ci sono vari tipi di teletubbies Ci sono C'è quello viola Che ti insegue alla pedo bear Poi c'è L'altro Uno che ti fa spaventare Che ti compara all'improvviso Un'immagine così Siete pronti? Sì Signor Capitano Non ho sentito bene Sì Signor Capitano Oh Questo Non mi sparare in testa Perché mi fai male Con questo fucile Che forte Sei tutto sanguinante Aia Aia No Perché mi fa perdere sangue Che noia Non ho il sangue in figa Ancora Aia Aia Oddio Oddio Ragazzi stiamo concentrati Non ci sconcentriamo E sconcentriamo De concentriamo Che sto dicendo Sconcentriamo Ti sono sconcertato Per quanto Sto facendo Pena Non ci dividiamo Non ci dividiamo per favore La cosa più brutta Da fare qui Sì Sì E poi maggio Di Ci accopparò Tutti e due Ti seguo Ti seguo Ma Aduliti Oddio cos'è Tagful Usa Ultrasuono Non sto scherzando E' uscito E' uscito il teletubbies rosso Tutto ciccione E' via Sono pronto prima E' questo qua Rispammato Mannaggia Superkill E' fioio Ragazzi Non iscrivetevi A questo video Ferma Vai Vai dai Spona qualcosa Padre Gregorio Con il lanciamissili E' un padre Questo Questo è Il don Don Gregorio Che non muore Perché non muore Oddio Questo qua Aia Mi ha trollato Come si vuol dire Voce del verbo trollare Io trollo Tu troglie Gli trolla Questo non esiste Che mi spara Ecco Il classico camperone Speriamo Divertiamoci con le luce Anni in discoteca Basta E ora facciamo un po' di acrobazie Vai Con la moto Oh voglio fare quello Giri nella morte Sii Ok Gli ho mancati Spera me Sii Gli ho mancati Troppo Provo di ha mancati Ha fatto come una rampa Vediamo se conosci questo Andate su Che noia Che noia Che noia non sa il loro punto debole Così non moriranno mai Ammazzatela Dai Aiuto Perché mi stanno girando tantissime persone Contemporaneamente Aiuto You spin me Aia Mi hanno ammazzato Qui ci sarà molto Io devo mantenere la calma Perché non posso fare casino Anzi Non Ecco quello viola Via 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 No perché sei salito stella volta Scusami tizio Scrivi almeno con T Scusa Scusa Tranquillo Vabbè Non fallo sapere che sei donna Se ne infastiscono Se infatuano Oddio Guardate queste bombe fluttuanti Oddio Che noia Guarda Mantina Che diavolo succede Time paradox Veramente Fai Allora Siamo su Sauerbraten O E io Cube 2 O come cavolo si chiama Sauerbraten Sono morta Porca mia E io sono ancora vivo Yeah Nel frattempo Palla un po' Ah Mi hanno ammazzato No Forse andare via Nota che mi sono presa Non paura Luce Eccolo 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 No Sconto Sto Via via Martina Sempre dritta Ma immagini Ci compare un altro Viola Così siamo proprio Accoppati nella cacca Che sto dicendo Ora mettiamo Il nitro Alla Il cocate Oddio Vediamo questo Oddio Vediamo Vediamo Questo Che noia Sei malefica Se non mi vengo Saluto Asfettuosamente Ciao Ah no E mi ha ammazzato Vedi Io dico ciao E mi ammazzano Non mi voglio Proprio bene Io cerco di fare Amicizia Sarà il loro Modo Per salutare Vediamo Vediamo Se questi qua Vogliono salutarmi Bene Anche io Li saluto Con piacere Fatti sotto No non è Com'è che si prende Ah devi passarci sopra Dai Sento qualcosa Sento qualcosa Oddio Oddio Mi sto spaventando per un gioco di merda Non ci posso credere Sto scrivendo Oddio Martina Hai visto questa statua Io mi sto rifermando Sempre qua Perché Oddio Oddio Ma cos'è Per favore Datemi Datemi un lanciamissili Datemi Un'arma Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Martina Aspetta che ti metto il posto di dietro Ferma Ferma Devo fare una cosa Fammi mettere la telecamera e il posto davanti No basta che prima i contro ti viene bene E infatti andiamo dai Allora 3 2 1 J J J Perché non parti C'è un problema Che noia come sta giocando Oddio E' la terza Mi ha superato Mi ha superato Non lo tollero Questa è una sfida Ora incomincia a recuperare Dove sta l'altro Eccolo Un teletubbies a te Si è alzato Si è alzato No a me sta ancora a te Guarda Cioè non si alza Oddio Sono morto No mi è venuto un colpo Martina che ti ha mostrato Voglio salirci Come vuoi salirci La mungo adesso Basta Oh no Fammi farlo Oh sono salito Sono salito Sono salito Oddio Guardate ragazzi Sono capovolto davanti a una mucca Oddio 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 aspetta aspetta Dovevo preverlo io Dovevo preverlo io Sono riuscito a salire Oddio l'epicità Ma perché sto muovendo le mani In modo Muoviti Ah la gata La gata Super amica Come si dice Super amica Sia I'm nigga Oddio Super Ragazzi stiamo nella seconda partita Nel frattempo che noia il morbo di Parkinson alle gambe Ah tag Bisogna sempre mettere la H finale Oddio Oddio Siamo usciti Bello Dove Stiamo No Alto la al sudore Che cos'è Spuggiamo questo qua Dai Sì Eccomi ammazzano Comunque ammazzano perché non ha senso Oh mio dio Ragazzi qua serviva la webcam perché Di nuovo No questo non ha fatto paura Sta vicino Sta vicino Sta vicino Play 60 Che cos'è Vediamo Play 60 Play 60 Uno mass Ok perfetta Scendiamo guarda Ma dai Aia Perché sono morta Perché ti ho lanciato alla velocità della luce con quell'oggetto In un gioco che Ah questo qua mi sta inseguendo Ciao Ciao Mi ammazzano Mannaggia Voglio le bacinelle Dove sono le bacinelle Quello morto che poi si è alzato E poi quello lì ci ha inculato Infatti Via Ho partita Prima di circa due secondi Vabbè Bene Ora ti supererò in un istante Come fate? Come la nitro scusa? No Oddio Questa qua Sta passare Allora Allora Come ti guido Meno No Come ti guido Vediamo Oddio Quest'auto è fantastica Yeah che noia Oh mia idea Cosa stai facendo? Se muoio Sto like a boss che continua a uccidermi Ma è idiota Like a boss No va Oh no sei tu Madonna mia che paura mi hai fatto prendere Cosa diavolo stiamo combinando? Fa tempo che Oh mio dio come ha vestito Oddio ma che Ma Oh mio dio Perché stanno tutti Oh mio dio Ma quella roba lì è quello che penso? Sì Adesso mi vedi Che stai facendo con quell'auto? Aiuto Intento che sto arrivando Oddio No 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 Via 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 No ho finto ai missili No 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 Oh mamma mia che bello trovare il canto Ciao 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 No Mannaggia mi metto in seguire le persone con la motosega E vedi che alle spalle mi fottono No dai non mi ha dato nemmeno il tempo di spawnarmi La tortina la tortina Qua c'è una trappola secondo me La prendi te? No guarda che dobbiamo prenderla tutte e due Via 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 Dietro 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 Bene musico divertente Oh qui la spiaggia ce n'era un'altra di tortina C'era quello giallo Ecco l'ecco l'ecco Quello giallo Ma cosa c'è qui? Il muro invisibile Ma va cagare il muro invisibile Oddio di Steve ci sono Oh mio dio Io vedo erro Ma io vedo Steve Non so perché I Steve che si stanno picchiando Oddio le texture Dai motosega La motosega questo qua ha saltato totalmente in alto che Quindi sei inutile Si è molto No 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 Ti ho perso E il frattempo quello viola sta in seguente a te Sta in seguente a te No Ah ce ne avevano 1 anche per me No 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 Basta basta Stai zitto Oh ma ti stai zitto Sto registrando Teletubbies del cavolo No Cos'è Oddio Oddio che noia Oh mio Dio che roba brutta Oddio salti Sembra che sono sulla NASA Ehi lo sai che ti voglio bene no Lo sai che ora tutti vogliono il tuo autocromo No adesso mi sta inseguendo solamente a me Mi stanno volendo al 100% bene Ah un teletubbies ti sta inseguendo Ora ti trovo in 4 secondi Oh ma ti stai zitto Che rottura di palle Come faccio a salire là Dove Aspetta che non riesco a controllarlo C'è la parte Oddio si è duplicato Perché si è duplicato Che sta facendo sto video qua Sta ballando Con lo terrorista No lui no è inutile Io sono al limite della mappa dove c'è l'acqua Eh no mi sa che mi sono persa completamente Tu basta che trovi l'acqua Ecco cosa avevo detto che quello viola mi inseguiva Oddio 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 Quello viola mi sta inseguendo No sono morto Eh io no però No io non voglio andare avanti da sola Mi dispiace Ciao ciao gioco di merda Che noia riciclittato Non ci credo 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 Non ci credo